Rieccoci, rieccoci signori, buongiorno. Ecco, la prima parte della lezione era terminata sulla natura, l'importanza della battaglia di Maratona nel 490 a.C. che vide la straordinaria vittoria della Grecia di Atene sotto il comando di Milziade che come abbiamo visto riuscì a sbagliare nella piana di Maratona attaccando di sorpresa l'esercito persiano che fu costretto a subire una tremenda sconfitta. Mi raccomando, di nuovo riportiamo qualche secondo i concetti con cui abbiamo chiuso il ragionamento poco fa, l'importanza della simbologia della vittoria di una città, di una polis, rappresentante eccellente della cultura greca che da sola riesce in sottonumero di soldati a sbaragliare non un esercito ma un impero da questo punto di vista. La sconfitta di una civiltà che con l'astuzia e la tattica militare è riuscita a difendere quello che aveva conquistato. Ne avevamo già parlato, la democrazia, la libertà e quant'altro. I greci non vollero scendere a patti, nessuno fuggì, furono tutti orgogliosi di appartenere, di celebrare questa vittoria proprio come simbolo della vittoria di un sistema di valori, di un sistema civile diverso che voleva essere in un certo qual modo ammantato, attenagliato ed oppresso. Dario fu costretto chiaramente a riparare e a ritornare in patria e da ambo le parti subito si intrapresero dei preparativi per un secondo attacco da parte dei persiani e di una necessaria difesa preparatoria da parte dei greci. Ecco, questi processi signori sono molto molto lunghi, nel senso che pensate al fatto che Dario nel mentre di questi preparativi morì nel 485 a.C., cinque anni dopo la battaglia di Maratona, e non era ancora completato il processo, in quanto suo figlio Cersei dovette prendere le redini di questa riorganizzazione dell'esercito persiano. E riorganizzare un esercito, signori, vuol dire nuovi soldati, rimettere insieme un'amministrazione, riorganizzare i tributi, tutto questo svolto in un'area enorme e gigantesca, vastissima, come quella dell'impero persiano. Basti pensare al fatto che le successive ondate di attacco che i greci riuscirono a fermare nella battaglia delle Termopili e nella battaglia di Salamina saranno nel 480 a.C., quindi una seconda ondata dopo la sconfitta di Maratona l'avremo dieci anni dopo. Attenzione, mi raccomando sempre alla tempistica, che noi in due righe di libro abbiamo condensati dieci anni di preparazione e di riorganizzazione. Tanto attiva fu la situazione persiana di riorganizzazione quanto ovviamente lo fu anche quella greca. E in questo frangente dobbiamo segnalare, ricordare la data del 481 a.C. con la istituzione della lega di Corinto, una cosiddetta lega panellenica. Etimologicamente, anche da questo punto di vista, non dobbiamo avere nessun problema, pan tutto, ellenico tutti i greci. Ricordiamoci che i greci paradossalmente non si definiscono greci ma si definiscono elleni. Questa aggettivazione, questa denominazione che abbiamo noi è un frutto poi della cultura romana, quindi panellenico. Corinto, una città nei pressi appunto dell'istmo di Corinto, quella strettissima lingua di terra che collega la Grecia continentale alla penisola del Peloponneso. Questa è la sede dove questa lega panellenica di 31 poleis venne sancita e venne appunto certificata e costituita. Vi aderirono 31 polis per reggere a un'ondata che sicuramente ci sarebbe stata nuovamente dai persiani da Oriente. Il dibattito qual era? Chi avrebbe preso il comando di questa lega panellenica? La partita si giocava chiaramente tra Sparta ed Atene e a malincuore gli Atenesi, anche per un punto di vista sicuramente legato al riconoscimento dell'attitudine efficacissima dal punto di vista militare degli spartani, lasciarono a questi ultimi la gestione di questa lega. Inizialmente gli spartani volevano che le truppe greche venissero interamente stanziate nella penisola del Peloponneso a sud, dove chiaramente alberga la loro città, la città di Sparta, ma gli Atenesi si opposero e le altre polis del nord chiaramente perché Atene sarebbe stata completamente sguarnita, lasciando libero chiaramente ai persiani di devastare la città e di devastare tutta la regione dell'Attica, attica regione nella quale Atene figura. E quindi si decise una sorta di divisione dell'esercito perché ricordiamoci che questa volta, contrario della prima ondata, i greci avrebbero dovuto fronteggiare una invasione sia via mare sia via terra. Nella cartina, buttavo un occhio prima sul vostro libro, vi viene perfettamente reso conto dei tragitti che i persiani fecero sia via terra, in questo caso via costa, passando nell'esponto e cercando di attanagliare da nord la Grecia e via mare appunto nella zona di Capo Artemisio. Anche in questo frangente cerchiamo di riferirci alla cartina un po' più grande che avete sicuramente sotto mano dove vi viene riportato il teatro sostanzialmente di questi scontri. Quindi uno stanziamento della flotta nella zona, guardate bene la cartina, di Capo Artemisio con a comando Temistocle che vedremo uno stratega eccezionale protagonista nella battaglia di Salamina, di modo che i persiani non potessero accerchiare, sbarcando in quella zona, accerchiare gli alleati, gli altri plotoni, e le altre schiere greche. Mentre il comando delle truppe via terra venne dato a re Leonida, spartano, ovviamente tutti conosciamo questa vicenda, ma mi raccomando attenzione adesso alla situazione delle Termopili che fu un teatro di battaglia scelto a seguito del rifiuto degli Ateniesi distanziali e tutte le truppe a sud nel Peloponneso, ma venne scelto nuovamente un luogo strategico nel quale la grande massa dell'esercito persiano avrebbe avuto difficoltà a inserirsi, perché le Termopili, le cosiddette porte calde, davano l'accesso poi alla Grecia continentale. Quindi di nuovo una strategia insieme navale e terrestre per fare in modo che i persiani andassero propriamente lì. E perché dovevano andare propriamente lì dove venne stanziato da re Leonida un contingente dei famosi 300, dei famosi 300 spartani, perché quel territorio era più favorevole, ossia delle porte una lingua di terra, uno strettissimo spianale di terra con le mura molto alte di modo che non potesse essere aggirato, anche se poi per il tradimento di un soldato questo accerchiamento dai persiani venne fatto, ma andiamo per gradi, in questo punto l'enorme mole di uomini dell'esercito persiano non avrebbe avuto alcun vantaggio, perché noi dobbiamo immaginare un collo di bottiglia, una sorta di imbuto nel quale necessariamente, ecco proviamo a prendere una bottiglia, proviamo a immaginare la situazione, per quanto grandi e potenti siano le truppe persiane che si stanziarono nella parte retrostante alle termopili, per forza questi contingenti avrebbero dovuto necessariamente passare dallo stretto collo di bottiglia delle termopili. Quindi un territorio nel quale anche pochi spartani, rispetto alle norme mole, avrebbero potuto combattere in maniera agevole, affrontando, come si suol dire, il nemico poco, poco per volta, e riuscirono 300 soli spartani a reggere l'urto di questo grande esercito. Attenzione a questo meccanismo perché non si capisce come tanti libri di storia non rendano conto e non rendano giusto merito alla scelta del territorio e anche alla strategia militare. Strategia che poi nella battaglia di Salamina Temistocle applicherà via mare, è per questo che queste due battaglie io non le separo mai dal punto di vista della tecnica, dal punto di vista dell'organizzazione militare. Purtroppo ci fu il tradimento di uno spartano che segnalò ai persiani la modalità di accerchiamento attraverso un sentiero, attraverso un passaggio conosciuto chiaramente solo dalle persone del territorio e gli spartani chiaramente vennero, le truppe di Re Leonida vennero sconfitte in questo frangente. Ma anche in questo caso nonostante la sconfitta si era dimostrata la capacità assoluta degli spartani di difendere la loro terra e di difendere il loro diritto di libertà. E' questo un messaggio assolutamente fortissimo che ritorna e viene dieci anni dopo rimarcato dopo la battaglia di Maratona e sempre nello stesso anno, le termopili per quello che concerne la situazione terrestre, la battaglia di Salamina nel medesimo anno, sempre 480 avanti Cristo, vide protagonista Temistocle a comando della flotta ateniese, riparato nei pressi dell'isola di Salamina, una piccola isola, anche qui signori rifacciamoci alla nostra cartina, dove vedete, qui siamo nei pressi di Atene, dove Temistocle riuscì ad attirare nuovamente la flotta persiana, grandi navi ingombranti, lente nelle manovre, grandi perché chiaramente avevano dovuto trasportare un imponente numero di soldati e dell'esercito, che malissimo si sarebbe destreggiata questa flotta nella miriade delle isole greche che formano l'arcipelago immenso dell'isole dell'Egeo. Immaginate un labirinto di acqua in cui questa innumerevole quantità di navi avrebbe dovuto, esattamente come le termopili prima nella nostra bottiglia, avrebbero dovuto diluirsi una per una e affrontare il combattimento. Ma Temistocle andrò oltre perché attirando in questa zona le navi, in questo strettissimo braccio di mare tra l'isola di Salamina e la Grecia continentale, ma comunque ancora nei pressi del porto del Pireo ateniese, queste navi si scontrarono, arrivarono a speronarsi l'una con l'altra e di nuovo la vittoria della tecnica, della genialità di Temistocle, che riuscì a trasformare il punto di forza dell'esercito persiano in un elemento a loro danno. È questa la genialità dei tattici militari, degli strateghi da questo punto di vista, no? Trasformare quello che dovrebbe essere il tuo punto di vantaggio in un punto assolutamente di svantaggio. Quindi anche nella distruggendosi a vicenda le navi, eccolo qui, scarsa conoscenza del luogo, uno, e astuzia di Temistocle che assicurarono la vittoria anche nella battaglia di Salamina. Anche in questo caso Cerse non aveva più possibilità di gestire un'invasione della Grecia e fu costretto a riparare in Persia. Questa volta però venne inseguito dalla flotta ateniese in un'ulteriore battaglia per sancire proprio la messa in fuga della flotta. Una parte dell'esercito per un anno addirittura rimase di contingenza in Grecia nel tentativo di creare rapporti quando non si riesce più dal punto di vista bellico-militare interviene chiaramente la diplomazia ma i greci non accettarono nessun accordo tant'è che dobbiamo segnalare un'altra battaglia. Nel 479 la battaglia di Platea da questo punto di vista in cui l'esercito greco venne comandato da Pausania che era il nipote di re Leone. Il figlio del fratello minore. Quindi vedete come ci sia tra le Termopili e questa battaglia, quest'altra battaglia di Platea, un legame di sangue nei propri condottieri. Questo dal punto di vista terrestre. Seguì poi la battaglia di Capo Micale in cui le navi persiane vennero odiate alle fiamme, Micale, guardate sulla cartina, è nella costa dell'odierna Turchia, le navi persiane vennero odiate alle fiamme e i superstiti vennero massacrati, quindi nelle più canoniche metodologie di rivalsa e di riproposizione della vittoria greca. Anche in questo caso, di nuovo signori, una simbologia potentissima che si è ripetuta per tre, quattro volte e non è un caso che da questi elementi si svilupperà poi l'assoluta predominanza della Grecia, che preparerà in un sistema panellenico, in un sistema di arricchimento della volontà di appartenenza a questa civiltà e l'orgoglio dei greci di appartenere a questa grande civiltà, la fioritura chiaramente della Grecia classica, della quale avremo chiaramente occasione di parlare. Ecco di nuovo qui, uno scontro di civiltà è il capitoletto con cui si chiude questo nostro percorso, questo breve percorso, che altro non fa che rimarcarvi l'importanza del filo che ho cercato di tenere in questo nostro breve discorso, della vittoria di un mondo occidentale, libero, democratico, che ha conquistato la sua libertà in un mondo di cittadini contro un mondo persiano, orientale, imperialistico e in cui il cittadino non esiste ma esiste il suddito. Quindi mi raccomando signori, lo ripeto per la centesima volta, il concetto di simbologia da questo punto di vista, mi raccomando. Ecco, vi segnalo sostanzialmente due libri di uno scrittore di romanzi storici, questo scrittore Andrea Frediani, che ha scritto proprio una trilogia di romanzi storici legati a questi eventi. Ve li segnalo, poi vedremo se si riuscirà a farveli arrivare, a farveli leggere. Abbiamo chiaramente la questione della battaglia di Maratona e poi abbiamo il bellissimo, devo dire, l'ho lessi tanti anni fa, i 300 guerrieri, che è la storia vera e propria della vicenda delle Termopili. Quindi, visto che ci stiamo occupando anche in letteratura di romanzo storico, questi appartengono a quelli che io vi ho definito essere i romanzi storici, i romanzi storici moderni. Chiudiamo, ancora qualche secondo, avete un'altra scheda che vi ho mandato, la gloriosa battaglia delle Termopili, che è quella che vi lascio in lettura. Chiudo solo il mio discorso. Nella terza colonna di questa scheda voi vedete una poesia che scrisse una celebrazione poetica di questa battaglia, riportata da Erodoto, ma scritta dal poeta Simonide, che recita «Vao, passeggero, narra a Sparta che noi qui morimmo, noi qui, noi 300, in obbedienza alle sue leggi». Simonide scrisse anche questo encomio «Dei morti alle Termopili, gloriosa la sorte, bella la fine, la tomba un'ara invece di pianti, il ricordo, il compianto e l'ode. Un tal sudario, né ruggine né il tempo mangia tutto, oscurerà». Valore della vittoria, della simbologia della vittoria oltre il tempo, che non riuscirà a oscurare le imprese di questi soldati. Questo saccello d'eroe valorosi, come abitatrice la gloria dell'Ade, si prese. Ne fa fede anche Leonida, il re di Sparta, che ha lasciato di virtù grande ornamento e imperitura gloria. Chiaramente è proprio questa la simbologia della vittoria che si imprime nel cuore dei popoli, che dà orgoglio ai popoli e permette a loro di appartenere appunto alla patria, alla cosiddetta loro terra dei padri, in questo caso una delle civiltà più straordinarie mai comparse nel mondo antico, alle quali anche la nostra cultura è debitrice. Ecco, signori, questo è, come al solito, in estrema sintesi un quadro della situazione. Mi raccomando, se ci fosse qualche chiarimento necessario con i canali delle piattaforme, lì ed modo mi mandate tutto quello che dovete mandare, ma mi sembra che abbiamo delineato nei tempi corretti la situazione. Quindi grazie a tutti e buon lavoro!